Il Signore ti dia pace. La Domenica della Misericordia ci invita a guardare oltre le apparenze, a riconoscere nel prossimo il volto di Cristo, a essere misericordiosi come il Padre è misericordioso. La fede può richiedere coraggio e fiducia anche quando si è di fronte al dubbio. La storia di Tommaso mostra che è normale avere domande e che attraverso la ricerca personale possiamo arrivare a una comprensione più profonda della nostra fede. Bisogna entrare nel mistero attraverso la volontà di conoscere. Non basta la sola azione umana, essa va accompagnata dalla consapevolezza del messaggio di amore e di speranza che Gesù è venuto a portarci. In questo giorno possiamo rinnovare il nostro impegno a vivere secondo il Vangelo, ad aprire il nostro cuore alla grazia che trasforma e a camminare con fiducia verso la pienezza della vita eterna. Ecco, allora i dubbi si trasformano in fiducia e come Tommaso possiamo anche noi esclamare mio Signore, mio Dio, buona Domenica della Misericordia e il Signore ti benedica. Grazie per la visione!